Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Ci ritroviamo ancora una volta per l'ennesima e la nuova Domenica Ludica Appuntamento che abbiamo trasformato momentaneamente in un video tutte le domeniche alle 7 Perché ragazzi, a parte fa un caldo della madonna veramente tantissimo Va sicuro che stare qui in questo suo parco anche ora per fare il video è veramente un patimento Comunque iniziamo questa nuova Domenica Ludica e oggi voglio parlare delle cose che ci sono arrivate L'ultima novità, tra l'altro che ci faccio anche video dettagliati, cosa ne penso Però soprattutto Rogue Trader, che è il GDR più aggiornato, l'ultimo uscito di Warhammer 40.000 Fornitomi da Giochi Uniti, che io ringrazio veramente di cuore per avermi fatto questa copia Anche perché era tantissimo che volevo un GDR di Warhammer 40.000 E poi che il team che invece è stato fornito dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola Di cui trovate tutto quanto in descrizione, ve ne parlo a breve dopo la sigla Parlando di giochi di ruolo, mi sto riorganizzando anche tramite Discord Dei ragazzi che conosco, con cui già ci ho fatto un'avventura di Alien Per tornare a giocare di ruolo sul canale Perché quale migliore espressione di gioco di ruolo appunto giocando ai GDR Quindi cercando di fare roleplay come mi è sempre piaciuto e ho sempre cercato di portare sul canale I giochi di ruolo sono in assoluta la migliore espressione E facendovi vedere un pochino, tanto poi ci sarò un video dettagliato Su questo Rogue Trader che mi è stato fornito dalla Giochi Uniti È il diretto successore di Warhammer Dark Heresy Che poi a sua volta Dark Heresy è il diretto successore di Death Watch Sono vari regolamenti di Warhammer 40.000 Che hanno come punto in comune il vecchio regolamento Se vi ricordate quello di Martelli da Guerra Che poi anche quello vi farò vedere in un successivo video Ci voglio fare un video dedicato a parte perché è secondo me un manuale d'oro della mia infanzia Ci ho giocato veramente tanto Ed è un regolamento molto semplice Questo qui è lo stesso che si affida sulle percentuali Quindi si va a tirare la percentuale che ci sa nella skill Magari tiro a distanza, skill balistica, 52% 52 o meno colpito 53 o più mancato E poi per vedere la location dove è stato colpito il bersaglio Si invertono i numeri Invece che 52 ad esempio diventa 25 E 25 magari buo il braccio sinistra Quindi lo stesso regolamento perché è un pochino più navigato Negidieri di Martelli da Guerra Ed è molto bello perché in questa ambientazione Andate in un settore dell'impero Molto popolato ma poco colonizzato e terraformato Quindi c'è veramente espressione d'avventura per tutti Ed andremo a interpretare non lo Space Marine Non l'inquisitore dell'imperium Ma andremo a interpretare un mercante corsaro Appunto il Rogue Trader E potremo fare figure importanti tipo il Rogue Trader Il Navigator Anche l'opzionico che in questo a bordo delle navi Soprattutto dell'impero e dei mercanti dell'impero Sono gli Astropati se vi ricordate Quindi è tutta quanta l'ambientazione di Warhammer 40.000 Con un regolamento semplicissimo Che veramente vi invito ad andare a vedere Poi vi lascio il link sul sito della Giochi Uniti Perché se volete giocare a Warhammer 40.000 Questo è il manuale perfetto con cui iniziare Ma tanto ve lo farò vedere in un cosa ne penso In un prossimo video Parlando invece di Warhammer 40.000 Tanto il mio argomento va sempre lì Vi sto fissando da morire e lo riconosco Di Warhammer 40.000 Gioco da tavolo Wargame E il nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola Di cui vi ricordo Link insieme in persone in descrizione Al momento dell'acquisto Che compriate questo Che compriate un colore Usate sempre il codice sconto Coridan7 Tutto attaccato Tutto scritto maiuscolo Coridan7 Per avere subito uno sconto del 7% Su qualsiasi acquisto Grande o piccolo E per acquisti superiore ai 70 euro Non ci pagate nemmeno le spese postali E spedisce in tutto il mondo Comunque perché questo Kill Team? Avete già visto Abbiamo fatto il video Sempre offerto Dalla gioco Libreria Semola Di Warhammer Warcry Che è ambientato Nell'Age of Sigmar Questo è ambientato Nell'Warhammer 40.000 E già lo vedete dal logo davanti Della GV Con scritto insomma Warhammer 40.000 È la vecchia edizione Quindi è l'edizione Ottava Per quanto poi le regole Con la nonna edizione Non cambino E la GV ha già fatto sapere Che se comprate Le nuove regole Di Warhammer 40.000 Questo qui è sempre Tranquillamente giocabile Non è cambiato niente Non c'è nessuna modifica Ci sono i nuovi Space Marine I primaris Soprattutto degli Ultramarine Ma li potete usare Anche in altri capitoli Dark Angel Blood Angel E quant'altro Magli imperiali Che hanno due punti ferita E addirittura Hanno due attacchi ciascuno Quindi non è poco È uno Space Marine Un Ultramarine Con due punti ferita E un po' le meccaniche Sono cambiate Perché comunque Questi Marine Con l'armatura Mark 10 Di cui vi ci farò Anche dei video lore Perché mi interessano Morire Sono molto più potenti Direttamente Prendendo dal primarca Del capitolo Sono molto più potenti Rispetto ai vecchi Space Marine E questo è un gioco Di schermaglie Quindi un po' come Mordheim Come Warcry Vi fate la vostra banda E fatta la vostra banda Decidete voi Di fare una missione storia O una missione Direttamente PvP Scegliete voi Quanti punti spendere Se fate una missione vostra Potete andare da 100 A 200 300 Qui non si gioca Con migliaia di punti E anche perché le squadre Dovrebbero essere massimo Da 15 elementi Ma anche meno O se no Fate le missioni della campagna In una vera e propria campagna Missioni collegate Una dopo l'altra Che vi porteranno poi Un esito finale Quindi proprio c'è anche Una modalità narrativa Ed è una cosa Veramente spettacolare Ed è un gioco Ragazzi Che io aspettavo Veramente vi giuro Col cuore in mano Anzi con i due cuori Citando gli Space Marine Perché è qualcosa Di bellissimo Veloce Immediato E questo per me vale oro E spero di portarvelo Quanto prima sul canale Ovviamente Giocherò gli Ultramarine Quello è scontato Quindi ancora una volta Grazie Corrado La gioco libreria Semola Che ci hanno offerto Una copia Se la volete acquistare Lo sapete direttamente Dal sito Che trovate In sovraimpressione E primo link In descrizione Corridan 7 E il codice sconto Passando al lato social Della domenica ludica Vi avevo anticipato Che d'ora in avanti Sotto a questo stesso video Mi potete fare commenti Lasciando l'hashtag Domande L'hashtag Domenica ludica E farmi delle domande A cui vi risponderò Direttamente nel video E partiamo Con la prima domanda Che il nome del ragazzo Che me l'ha fatta Tanto poi lo metto In sovraimpressione Scusate non me lo ricordo Ma tanto ora voi Lo starete sicuramente vedendo Che mi chiede Hai mai pensato Di creare un tuo gioco GDR? Sì Onestamente Ci ho pensato più volte Io ho 38 anni Ci ho iniziato a pensare E non scherzo Già da quando ce ne avevo 15 Che giocavamo Alla seconda edizione Scusate All'Advanced Dungeons & Dragons Nonché anche alla prima A martelli da guerra È già un po' Che ci penso di fare qualcosa di mio Però Ci sono stati Vari momenti In cui avrei avuto Molto tempo per farlo E altri momenti Come ora che ce l'ho Sicuramente Molto meno di tempo Mi sarebbe piaciuto Ho sempre avuto L'affiatamento Spero prima o poi Di farlo Magari non per vendere Anche qualcosa Di puramente amatoriale Però richiede veramente Molto 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 tempo Comunque sì La risposta è sì Se vorrei collaborare Con aziende Per fare un gioco di ruolo Qualcosa del genere Appunto E si ricollega anche Alla domanda di prima O anche collaborare Con altri youtuber Streamer Podcast Insomma quello che è Per fare dei Cosa ne penso insieme No Cioè la prima parte Sì per fare un GDR Con l'azienda Assolutamente sì Però io non collaboro più Con nessuna entità Che non sia appunto Un'azienda Un editore Una cosa del genere O produttori Perché comunque Non voglio più collaborare Con nessuno E tanto che l'ho detto E purtroppo Per brutte esperienze Passate Non collaborerò più Con nessuno Ryu Zenka Grandissimo Tra l'altro Il mio amico Che mi chiede Ma quant'era difficile Fare una partita Tunnel and Trolls Ryu Non ti offendere Però sinceramente Non l'ho mai sentito Aiutatemi Cercherò qualcosa Ma io questo Tunnel and Trolls Ignorantemente Non l'ho mai sentito Quindi non so cosa risponderti Visto l'interesse Nei board game Insomma Tradotti Trattati Anche e soprattutto Su pc Passati in versione Videoludica Che cosa ne pensi Secondo me Il porting su pc È valido E anche decoroso Nel senso È fatto bene La trasposizione Videoludica È fatta Secondo me Molto molto bene È fedele Rispetto all'opera originale E secondo me Sono molto interessanti Ti dico la verità Ryu Perché Il board game Si deve fondere Col videogioco Però anche se non si fonde Il videogioco In entità A parte Satellite Che ci gira intorno È quella la cosa importante Che sia una cosa Satellite Furba A livello di marketing Ovvero che Ti fai il videogioco Poi il videogioco Ti piace talmente tanto Che magari anche così Da nulla fai Ma esiste anche Una versione Gioco da tavolo Che posso fare La domenica a cena Con gli amici Sì Allora me lo compro No il videogioco È bellissimo Voglio vedere come Sono le miniature e tutto Quindi il videogioco Secondo me Ti aiuta A far vendere Di più il gioco da tavolo Quindi sono a me Grandissimi Sì sì Alla grande E mister cubo Che mi domanda Quali altri progetti Vorrei portare sul canale In tempi più o meno brevi I progetti Ve l'ho detto ragazzi C'erano tanti Mi piacerebbe riportare La pittura Mi piacerebbe riportare I giochi di ruolo Sul canale Soprattutto i giochi di ruolo Però mi interessa Anche dare la giusta attenzione La giusta vetrina Sul mio canale Per quanto riguardano Le stampe 3D Perché è un argomento Ci sta interessando Da morire Ma soprattutto Oltre alle stampanti A resina che abbiamo Abbiamo ordinato Anche una stampante A filamente FDM Che ci dovrebbe arrivare Fra non molto Quindi con un volume Di stampa molto più grande Si va verso i 28-30 cm Che quindi Ci dà la possibilità Di stampare Non soltanto cose piccole Come miniature Ma anche scenari E immaginatevi Con una stampante A filamento Che ti stampa Anche cose di 30 cm E altre così Si può iniziare A tirare fuori anche scenari Per giocare a Warhammer E cose del genere Cioè Laddove la stampante In resina Ti fa le miniature Quell'affilamento Ti fa direttamente Gli scenari E io non vedo Veramente l'ora Quindi Progetti Ce ne ho tanti Però quelli che mi interessano Di più Sono portare Giochi di ruolo E so Vabbè Portare più gameplay Ragazzi Appena ovviamente C'è un po' più di freschino Perché qui si schianta E portare Anche tanta Tanta stampa in 3D Farvi vedere Scusate Scenari Miniature E cose del genere Ragazzi Si conclude qui Questa nuova Domenica Ludica Io spero che vi sia piaciuta Come contenute E quant'altro Se volete a volte Rendiamola anche open source Se volete Oltre a lasciare le domande Domenica Ludica Con l'hashtag Così vi rispondo Nel prossimo video Lasciate anche vostre idee Su cosa potrei fare Nei prossimi video Appunto L'unica cosa ragazzi Fa veramente Troppo caldo E quindi siamo limitati Veramente nelle cose Che possiamo fare O l'avremo mantenuta Una live Però se avete a volte idee Qualcosa che vorreste Anche non tanto qualcosa Che vorreste vedere Anche un argomento Che vorreste trattare Io magari su quell'argomento Mi documento un pochino Se non lo conosco E lo porto In una prossima Domenica Ludica Ragazzi passate Una buona domenica E niente Fatemi sapere cosa ne pensate Fate qualche domanda Così vi rispondo Nella prossima Ciao ragazzi Buona serata